Per quanto riguarda l'eventualità della sua candidatura all'europea? Diciamo che sono ipotesi che stanno circolando come si conviene in questi casi, non commento, vediamo gli sviluppi delle prossime ore. Ovviamente il fatto che il mio nome possa essere stato indicato può essere anche un elemento di gratificazione, di considerazione positiva da parte mia, però sono questioni abbastanza complesse che non necessariamente si possono valutare o decidere in poco tempo, quindi vedremo gli sviluppi nelle prossime ore. Lasciamoci così.